Doppio incendio questa notte nel quartiere Ponticelli, area est di Napoli. A distanza di pochissimi minuti sono state attaccate la casa e l'esercizio commerciale di un uomo con precedenti penali. PT, queste le sue iniziali, di 35 anni, ha avvertito intorno alle 22 i vigili del fuoco dell'incendio al di fuori della sua abitazione in via Lombardi. Attimi istanti e in via De Meis, a qualche chilometro di distanza, a prendere fuoco la pescheria dell'uomo non ancora inaugurata. Oltre ai vigili del fuoco sul luogo, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Ponticelli, che in queste ore stanno ascoltando testimoni e tessendo le prime fila dell'indagine. Da quanto emerge dalle prime ricostruzioni, il pregiudicato avrebbe avuto in giornata un diverbio con alcune persone della zona, scontro nel quale sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. I due incendi, quindi, potrebbero essere frutto di una vendetta personale.